Dopo sei mesi di scuola, all'appello, secondo i dati forniti dalla prefettura, mancano 866 alunni. Le assenze maggiori sono nella scuola dell'infanzia, seguita dalla primaria e dalle medie. Alle superiori sono 139 gli alunni che non frequentano più. Un fenomeno che si è attenuato rispetto allo scorso autunno, ma che preoccupa i dirigenti scolastici. Abbiamo quasi la certezza che molti studenti rientreranno a scuola, spiega Stefano Pollini, presidente provinciale dell'Associazione dei Presidi. Questo vuol dire che serviranno più insegnanti e aule. I numeri delle iscrizioni attuali vanno aumentati in previsione di questi ritorni. Basti pensare che alle parentali sono iscritti 240 studenti. I presidi hanno informato della situazione all'ufficio scolastico provinciale, che in questi giorni sta preparando gli organici. Intanto, per la prima volta a Prato, calano le richieste di iscrizione alle scuole dell'infanzia. Oltre 400 famiglie hanno scelto di non far frequentare i propri figli. Riteniamo che ci sia in questo momento anche una certa paura dei genitori, diciamo nuovi, che si approcciano per la prima volta alla scuola, di mandare i bambini per la situazione pandemica. Le scuole dell'infanzia, così come i nidi, sono risultate scuole attente e sicure.